Se siete pronti cominciamo. Buongiorno a tutti, noi siamo qui questa mattina per presentarvi questo schema. Questo schema è di una serie di persone che attualmente stanno governando il nostro paese e sono tutte le persone coinvolte, o meglio la prima parte di persone coinvolte che conosciamo, delle quali siamo a conoscenza, nello scandalo Trivellopoli, che è uno scandalo che si sta allargando a macchia di petrolio. Questo scandalo non è quello che ci vogliono far credere dal Partito Democratico, da questo governo, è uno scandalo che coinvolge un ministro che fa un favore a un fidanzato, ma è un vero e proprio sistema mafioso e opera nella stessa maniera con la quale opera la criminalità organizzata. Noi abbiamo diversi livelli istituzionali coinvolti. Il primo è sicuramente quello ministeriale, cioè quello dove il ministro Guidi segue le pressioni del proprio compagno e riesce a far inserire all'interno dello Sblocca Italia, come ormai conoscete tutti, il famoso emendamento che favorisce i petrolieri della Total. Quell'emendamento però non sarebbe mai e poi mai potuto passare se non ci fosse stato il coinvolgimento diretto di alcune figure fondamentali. Una di queste figure sono i due sottosegretari della Presidenza del Consiglio, uno è Lotti e l'altro è De Vincenti, persone che all'interno delle intercettazioni che sono venute fuori, quelle del ministro Guidi, fanno pressioni, quindi immaginate un governo che è all'interno, in seno a se stesso, invece di fare gli interessi dei cittadini, fa pressioni per ricevere dei propri favori personali. Quindi Lotti e De Vincenti sono persone che pressano il ministro Guidi per fargli fare il proprio piacimento, per realizzare quello che vogliono loro. Un'altra persona coinvolta è quella che fa di tutto per far passare quell'emendamento, che è il ministro Boschi, perché l'emendamento in prima battuta, grazie al Movimento 5 Stelle, viene bloccato, viene bloccato nella Commissione Ambiente alle 4 di notte. Se Renzi credeva che questo emendamento e questo favore alla Total fosse qualcosa di strategico per il Paese, perché non l'ha inserito direttamente lui all'interno della legge? Per quale motivo viene come un emendamento alle 4 di notte? E per quale motivo grazie al cielo viene bloccato e quindi il Parlamento non se l'è sentita? La Boschi realizza il ricatto vero e proprio al Parlamento, perché nella legge di stabilità inserisce questo emendamento dicendo a tutti i parlamentari della sua maggioranza, dice o lo firmate o lo votate a favore o ve ne andate tutti a casa. Quindi questo va sopra qualsiasi interesse, l'interesse dei petrolieri e l'interesse personale di questa cricca, di questo clan, vero e proprio, va sopra tutti gli interessi dei cittadini. Non ci dimentichiamo che all'interno della vicenda, insieme a Gemelli, ci sono interessati anche il signor De Filippo, De Filippo era l'ex governatore della Basilicata, che pare si facesse carico di inserire all'interno delle aziende locali delle persone segnalate e quindi per gestire il suo potere elettorale, quindi inserire a lavorare nel ricatto lavorativo in Basilicata nelle varie aziende che erano implicate nel progetto Tempa Rossa e in vari altri progetti relativi all'estrazione petrolifera. Sembra che, dalle intercettazioni, De Filippo addirittura tratti il figlio del ex sindaco di Corletto del Partito Democratico, sindaco arrestato, ve lo ricordo, che inserisca direttamente il figlio alla Eni come fosse figlio suo. E' questo quello che viene fuori dalle intercettazioni. Ovviamente il tentacolo, la macchia di petrolio, si allarga così tanto che oggi anche il ministro del Rio viene coinvolto, perché dalle intercettazioni del chiacchierone, dell'oquace fidanzato della ministra Guidi Gemelli, ex ministra Guidi Gemelli, si parla con un certo Walter Pastena. Walter Pastena chi è? Prima funzionario della ragioneria, quindi una persona che fa quadrare i conti di questo Stato. E poi consulente della Guidi, quindi una persona che conosce bene la macchina amministrativa e parla addirittura di un amico e gli avrebbe mostrato delle foto del ministro del Rio con dei mafiosi, cotresi, e così viene fuori, così lui sostiene da queste intercettazioni, che verrebbe fuori alla fine di questo scandalo qualche fotografia di Del Rio con dei mafiosi. Quindi parliamo di questo, parliamo di un governo che dovrebbe fare gli interessi dei cittadini, ma in realtà è completamente collegato alla criminalità organizzata. Allora il delinquente è colui che si sottrae al proprio dovere. Il dovere del ministro, il dovere dei parlamentari è quello di fare gli interessi dei cittadini. Queste persone che vi ho elencato, che vi ho descritto, sono persone che si sono sottratti al loro dovere, per cui sono tutti dei delinquenti. Ovviamente questo rigadute sui cittadini quali ha. L'emendamento Tempa Rossa uccide le persone. L'emendamento Tempa Rossa è un emendamento assassino, e ce lo dice l'Istituto Superiore della Sanità, che ha fatto uscire uno studio, nel quale attesta che negli ultimi 16 anni c'è stato un incremento esponenziale di tumori nella Val d'Agri, proprio quella stessa valle dove sussiste il progetto Tempa Rossa, di estrazione petrolifera. Allora noi non ci possiamo permettere, non ci possiamo permettere che questa gente continui a governare questo paese impunemente. E qual è, vi chiedo, la differenza tra questo governo e i camorristi che al telefono, durante le loro intercettazioni, in altri scandali, conoscendo l'inquinamento delle falde acquifere, dicevano noi ci beviamo l'acqua minerale. Se l'acqua è inquinata, noi ci beviamo l'acqua minerale. Qual è la differenza tra quei camorristi e questi governatori, questi governanti e questi ministri? Anche nei ministeri si bevrà l'acqua minerale, ovviamente. Quindi, chiaramente, l'11 di questo mese noi inizieremo a discutere le riforme costituzionali in questo clima. Non è facile descrivere tutta la situazione, chiaramente avete capito quante persone sono coinvolte, quindi per agevolare la comprensione della situazione e del motivo per il quale noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia che discuteremo al Senato e poi vi diranno anche le altre azioni che noi abbiamo intenzione di fare. Abbiamo realizzato un breve video per spiegare in maniera molto più chiara a tutti i cittadini qual è la situazione dello scandalo Trivellopoli. Grazie. Lo scandalo Trivellopoli travolge il governo e dalle intercettazioni della Procura spuntano nomi di ministri e di esponenti politici del PD. L'ex ministro Guidi, il ministro Boschi, il presidente della Basilicata, l'ex sindaco del comune di Corleto, un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, un consigliere regionale, il sottosegretario alla salute, il capo dello Stato Maggiore della Marina. Tanti nomi e tantissimi reati contestati. Disastro ambientale, associazione per delinquere, traffico di influenze illecite, corruzione propria, corruzione impropria, concussione, induzione indebita, truffa aggravata per erogazioni pubbliche, traffico illecito di rifiuti e miscelazione di rifiuti speciali, abuso di ufficio. Le intercettazioni su Trivellopoli coinvolgono direttamente i ministri del governo come la Guidi e la Boschi, ma per difendere la sua ministra più fedele, Renzi dice che l'emendamento è opera sua, la Boschi rimane al sicuro e la Guidi se ne va a casa. Ma vediamo esattamente come sono andate le cose. È la notte del 17 ottobre 2014, la Camera discute lo sblocca Italia, o meglio, sblocca Trivelle. All'improvviso arriva un emendamento, cioè una proposta di modifica del testo voluta dal governo con un chiaro obiettivo, favorire la francese Total, colosso mondiale del petrolio. La proposta esclude le autorizzazioni regionali e locali per le opere che trasportano il petrolio estratto in Basilicata prima a Taranto e poi fuori dall'Italia, all'estero, con enormi risparmi per la Total. Mirella Liuzzi, deputata del Movimento 5 Stelle, si accorge dell'emendamento Marchetta e riesce a tirarlo fuori dalla legge. Ma non finisce qui. Il governo qualche mese dopo ci riprova e infila la stessa Marchetta dentro la legge di stabilità del 2015. Poi arriva la Boschi che blinda tutto con il voto di fiducia. Festeggia Gianluca Gemelli, fidanzato del ministro Guidi. Per lui all'orizzonte c'è un subappalto della Total da 2 milioni e mezzo di euro. Pieno conflitto di interessi, direte voi. E invece no. Per Renzi è solo un modo per sbloccare un'opera pubblica che in realtà è privata e che secondo lui è necessaria al paese, ma che in realtà favorisce solo la Total. L'Italia cosa ci guadagna? Solo danni all'ambiente e alla salute dei cittadini, perché le tasse pagate dalle multinazionali per estrarre il petrolio, le cosiddette royalty, da noi sono briciole, le più basse di tutta Europa. Il governo fa l'ennesimo regalo alle lobby, l'ennesima marchetta, proprio quelle che Renzi contestava a Letta poco prima di prendere il suo posto. Ora che Renzi è stato beccato con le mani nel petrolio, dovrebbe dimettersi immediatamente. Per questo il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia in Parlamento per mandare a casa l'intero governo. Ogni giorno nuovi nomi illustri come i ministri del Rio e il ministro Padoan sono tirati in ballo nell'inchiesta Trivellopoli. Chi sarà il prossimo? Sì, grazie. Lo scandalo Trivellopoli travolge il governo e della intercettazione Sì, questo scandalo quindi non si può risolvere come abbiamo visto dalle ultime intercettazioni e delle continue novità con le soli dimissioni dell'ex ministro Guidi. È chiaro che questo è un sistema che si estende a macchia d'olio, un sistema che comunque ampiamente il Movimento 5 Stelle aveva già denunciato e scoperto nel 2014. Adesso ci sono delle indagini della Procura che inchiodano il governo e lo mettono di fronte alle sue responsabilità. Responsabilità che devono essere affrontate nel Parlamento e per questo motivo con il giusto dovere di noi parlamentari del Movimento 5 Stelle che rappresentiamo ben 9 milioni di cittadini italiani con la giusta responsabilità e noi vogliamo che questo governo venga in Parlamento e che si discuta immediatamente la mozione di sfiducia in quanto la dimostrazione è che è un governo assolutamente inadeguato a governare, un governo che è parte di un comitato d'affari che si allarga appunto a macchia d'olio che coinvolge componenti dal compagno dell'ex ministro Ministra Guidi quindi da questo signor Gemelli che comunque era in Confindustria adesso si allarga del Rio continua con allargarsi a componenti dalle intercettazioni lo vediamo sempre di Confindustria Sicilia insomma un comitato d'affari che va dal nord dal sud Italia e che si occupa degli interessi solo ed esclusivamente di petroliferi e che agevolano solamente e unicamente interessi privati mentre tutti i cittadini italiani sono costretti ad emigrare subiscono i danni ambientali il disastro ambientale provocato da interessi privati e la sanità nazionale subisce un danno erariale quindi non c'è l'interesse né a tutelare il cittadino né a tutelare i bambini che ricordo in questa occasione che ahimè io purtroppo lo conosco di persona essendo siciliana e vivendo vicino ai petrolchimici i bambini che nascono con le malformazioni le famiglie che hanno almeno una persona malata di tumore quindi mentre le famiglie della Basilicata di tutta l'Italia stanno a combattere contro tutto quello che è successo col disastro ambientale questo governo vorrebbe allontanare la discussione non prendersi le proprie responsabilità e non affrontare in Parlamento quello che chiaramente ha fatto e ha prodotto per portare avanti interessi privati solo ed esclusivamente privati quindi noi vogliamo che immediatamente si metta davanti alle proprie responsabilità e che questa cosa si discuta in Parlamento adesso non domani e non prologando e cercando di portare i termini dopo addirittura il referendum sulle Trivelle anche questa è un'azione non a favore della democrazia perché il referendum è uno strumento democratico e i cittadini italiani non devono essere condizionati ed è corretto che tutto questo venga discusso prima Salve a tutti il caso Trivellopoli è un caso di corruzione e ci sono vari filoni di indagine che stanno andando avanti uno ha già portato alla condanna pochi giorni fa degli ex dirigenti della Total quella multinazionale favorita insieme al fidanzato del ex ministro Guidi Gemelli e altri filoni di indagine per corruzione stanno andando avanti anche in questo momento legati sempre a Gemelli e da un momento all'altro potrebbero arrivare avvisi di garanzia nuovi avvisi di garanzia mentre sta succedendo tutto questo lunedì alla Camera si voteranno le riforme costituzionali o almeno inizierà il percorso per noi è incredibile che una maggioranza e un governo che è appesa a un filo cioè appesa a una mozione di sfiducia che verrà discussa al Senato il 19 aprile modifichi la carta più importante del nostro paese anche per questo noi chiediamo ufficialmente un incontro al Presidente della Repubblica cioè Mattarella per parlare del caso Trivellopoli cioè un caso di corruzione che potrebbe avere una portata maggiore di Tangentopoli e gli chiediamo un monito da mandare alle Camere per chiedere che venga posticipata la riforma costituzionale a dopo la votazione della mozione di sfiducia al Senato questo governo e questa maggioranza vanno avanti con provvedimenti a favore delle banche a favore dei petrolieri mentre invece non si parla mai di conflitto di interessi non si parla mai di prescrizione cioè norme che servono veramente al nostro paese per tutelare i cittadini dalla corruzione quindi tutto questo che vi hanno anche raccontato i miei colleghi è un motivo in più per discutere e votare questa mozione di sfiducia e mandare finalmente a casa il governo se qualcuno ha delle domande non ho capito c'era c'era ah ok grazie grazie